Ci siamo trasferiti dieci anni fa, abbiamo iniziato questa attività a Montesant'Angelo, però i dieci anni fa ci siamo trasferiti a Manfredonia e stiamo nella zona artigianale, viale del commercio, dove abbiamo l'attività di produzione e anche vendita al dettaglio e all'ingrosso. Come mai questa società è una bella domanda, una domanda perché è difficile comunque ritornare al proprio paese, intraprendere un lavoro, un'attività e quindi io mi sono avventurato in questa impresa, come si può dire, un'impresa in tutti i sensi, iniziare un'attività da zero senza nessuna base e riuscire comunque a raggiungere degli obiettivi nel corso degli anni. I prodotti inizialmente avevamo 3-4 referenze, tra cui il limo olivo, quello che è il cavallo di battaglia, il limoncello anche fatto in modo tradizionale, va moltissimo, e poi ci sono una serie di prodotti, abbiamo 50 etichette di tutti i tipi, utilizziamo aromi, erbe, tutte le naturali, speziate, abbiamo clienti, in particolare in Germania. No, dire la verità c'è sempre il contatto italiano, molti sono ristoranti aperti da italiani a Monaco, Stoccarda, Francia, ci contattano e vengono direttamente da noi quando ritornano ovviamente per le loro ferie, ritornano al loro paese, spesso si portano via, il futuro è internet, quindi punterà molto sul sito e-commerce e sulla pubblicità online.